poi si aggiunse circa 70 anni fa mio nonno allo Iazzo a Francabila Fontana dietro la siepe che escludeva la vista della strada mi parlava dei grandi morti Platone e Pitagora e ogni sera aggiungeva altri grandi morti si aggiunse un contadino che voleva capire qualcosa della vita e una proprietaria terriera che voleva capire anch'essa qualcosa della vita e altri insegnanti e lavoratori della mente perché mio nonno era un preside una sera il contadino disse signor preside ma tutti i grandi morti adesso non sono la natura perché? commento perché chi si identifica con l'assoluto è anche la natura che si identifica con l'assoluto che si identifica con l'assoluto